Ciao ragazzi da AgroRollo204 e ben ritornati in un nuovo video dopo tantissimo tempo Un video un po' particolare perché oggi andiamo a parlare di una cosa ragazzi che ci tenevo tantissimo a fare E quindi oggi per la prima volta andiamo a fare sul mio canale Andiamo a parlare di diciamo delle tecniche più importanti che si fanno comunque da sempre in agricoltura Infatti oggi ragazzi andiamo a parlare dell'aratura Beh dell'aratura ci sarebbe tanto da dire però noi partiamo già con un argomento che adesso vi dirò Comunque prima ovviamente è importante tutto il vostro supporto e quindi detto ciò diciamo che si parte ragazzi Allora intanto ragazzi l'aratura viene effettuata con l'attrezzo agricolo per antonomasia O antonomasia non so come si dice Comunque l'aratro che sicuramente conoscerà anche chi non è esperto di agricoltura Tanto è conosciutissimo questo attrezzo Comunque sia questo tipo di attrezzo sostanzialmente è uno strumento rovesciatore del terreno Cioè che il suo compito è quello grazie al suo vomero o più vomeri che poi vedremo anche i tipi di aratri che vi dirò Il suo scopo è quello di rovesciare la zolla di terra per rivoltare lo strato superficiale con quello sottostante Ah e poi tra l'altro vi ricordo che i terreni agricoli tra l'altro hanno una stratigrafia diversa I terreni naturali hanno una stratigrafia molto più vasta Invece quelli agricoli hanno una suola di lavorazione che è quella che viene raggiunta dagli organi lavoranti dei macchinari E uno strato inerte che è quello sottostante E questi strati, questa stratigrafia del terreno è dovuta a tutte le intense lavorazioni che ci sono state sul terreno Comunque sia Adesso ragazzi vi spiego come è, da quali parti è formato un aratro Bene, l'aratro è formato da un corpo possiamo dire Un corpo che si chiama bure Il corpo ha ovviamente i dispositivi di attacco con il terzo punto Per essere collegati alla trattrice E questi non sono gli unici attacchi Cioè non sono le uniche parti Abbiamo anche il vomero Il vomero è la parte che rivolta la zolla Abbinata anche a un coltello Il coltello che serve per tagliare la zolla E poi abbiamo anche il coltro Il coltro è una specie di coltello Una grossa lama che si trova davanti al vomero Che ha lo scopo di tagliare il eventuale cotico erboso O strato superficiale Per aprire diciamo il terreno sostanzialmente E infatti ci sono Ormai ragazzi ci sono tantissimi tipi di aratri Per tantissimi lavori diversi Che adesso andremo a vedere ragazzi Parlando dei tipi di aratro ragazzi Partiamo dal tipo di aratro più semplice Cioè l'aratro classico Quello non reversibile Che praticamente c'ha il telaio Pure con tutti i vomeri Con numero variabile Dipende dal tipo Che però Ara in una sola Una sola direzione Ara Questo tipo di aratro E poi Questi qua Ovviamente gli aratri sono macchine Ah poi vedremo anche Un tipo di aratri Dei tipi di aratri anche un po' diversi Comunque che Non sono azionati dalla Dalla presa di potenza Ma solamente dalla potenza del trattore Cioè dalla forza del trattore E dall'impianto idraulico Anche perché è l'impianto idraulico Adesso vediamo gli aratri reversibili Gli aratri reversibili sono aratri Quelli che forse avrete visto sicuramente tante volte Gli aratri reversibili Arano in due direzioni diverse Cioè che L'aratro Una volta Una volta arrivati al fine campo Tramite il sistema idraulico del trattore Perché Quei tipi di aratri Sono appinati anche a un sistema idraulico Di pendoli Che servono E di bilancieri Che servono a fare Questo movimento ribaltatore All'aratro Questo movimento qui Vedete Ecco E quindi Questo permette di arare In due diversioni diverse Ovviamente Questi Sono aratri Che possono essere anche Diciamo Possono avere anche 12 vomeri Quindi aratri molto lunghi Che ci sono anche in America E quindi Li usano in America Trattori ovviamente Vi ricordo molto potenti In America E sono anche Semi portati Cioè che hanno un telaio Che praticamente Gli aratri vengono sollevati Però quando poggiano per terra Poggiano sopra Delle ruote Che a volte però Gli aratri Per fare il trasporto Su strada Questi sono i tipi trainati Praticamente Per il trasporto Anche Per il trasporto Poggiano su delle ruote Poi Passiamo a un'altra tipologia Di aratri L'aratro a dischi L'aratro a dischi È Stessa funzione Dell'aratro Solo che qui Al posto dei vomeri Abbiamo dei dischi Che hanno lo stesso scopo Dei Dei vomeri Di un classico aratro Come vi ho detto prima E poi adesso Vediamo anche Dei tipi di aratri Entriamo in una parte Veramente Veramente Interessante Andiamo a parlare Degli aratri da scasso Gli aratri da scasso Sono degli aratri Che 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 sono Magari Sono solitamente Usati Per fare gli impianti Dei frutteti Perché Per fare l'impianto Di un frutteto Comunque Di una pianta arborea C'è bisogno Di una grande Profondità Di espansione Per le radici Per questo Si fanno le arature Da scasso Si parla di 80-90 cm Sotto terra Ed è una Grande Qui Ad esempio Viene richiesta Una grandissima Potenza Del trattore E quindi Anche una Grande Forza di tiro Con un Anche un Bello Alto Di rapporto Peso potenza Comunque Sono aratri Solitamente tipo Monovomeri Però anche Bivomeri Possono essere Che sono Hanno sostanzialmente Dei vomeri Molto grandi E a volte Tra l'altro Questi Questi Tipi di aratri Possono essere Tranquillamente Anche attaccati Ai bulldozer Quelli che Solitamente Hanno anche La La palla davanti Un altro Tipo di aratro Veramente interessante Però questo Non è Utilizzato Per le Lavorazioni Del terreno Questo Tipo Di aratro Si chiama Aratro talpa E Perché si chiama Aratro talpa Questo nome Un po' strano A differenza Di questi altri Tipi di aratri Che vi ho detto L'aratro talpa E Una sorta di Ripper Funziona come un ripper Ricordo Vi dico Anzi Vi dico già Che il ripper Non è l'aratro L'aratro È uno strumento Rovesciatore Il ripper È uno strumento Discissore Cioè Che taglia la zolla Non la rivalta E questo è un aratro Discissore Perché praticamente Viene fatto Viene usato Questo aratro Per creare Ad esempio I dreni Per gli impianti Di drenaggio Per l'acqua O anche Per la posa Dei tubi Degli impianti Di irrigazione Sotterranei E Praticamente Questa roba Può essere anche fatta Con dei macchinari Semoventi Che Cingolati Che avanzano Che avanzano E poi c'è una bobbina Con il tubo Il tubo viene direttamente Posato Nel Nella trincea Che ha scavato L'aratro E niente E niente Un altro Tipo di aratro Questa volta È un tipo di aratro Che viene azionato Dalla presa di forza Del trattore Sto parlando Degli aratri Aratri Rotativi Gli aratri rotativi Sono dei tipi di aratri Che funzionano Con la potenza Del trattore Infatti Sono formati Da un Da un albero Collegato alla presa Che viene fatto muovere Dalla presa di forza Con le Le zappette Che Anzi Tipo dei vomeri Che servono per Che fanno lo stesso Lavoro dell'aratro Che anzi Funzionano un po' Come delle Come delle Come posso dire Come delle zampe Di una talpa Ecco Per fare un paragone Funzionano così E fanno praticamente Questo movimento Di rivoltare La terra Non lo fanno Così Come lo fa l'aratro Ma lo fanno così Praticamente Ah Tra l'altro Questi attrezzi Vengono anche chiamati Vangatrici E poi Abbiamo un'altra Tipologia di aratri Che tra l'altro Si sta Anche diffondendo Per quanto riguarda L'agricoltura Diciamo Moderna Sono Gli equaratri E che cosa hanno di diverso Questi aratri Dovete sapere Che la profondità Minima In cui si ara È di circa 35-40 centimetri Ecco Gli equaratri Lavorano Molto di meno Molto di meno Molto di meno Tipo Tipo 15-20 centimetri E Perché si fa questo Per evitare che Che poi Con lavorazioni Troppo profonde Si crei una crosta Di lavorazione Che cioè Che il terreno Si rende molto Compatto E questo Li consente Di essere Di essere Così Il terreno È troppo tenace E non viene Non è Facilmente Penetrabile Dalle attrezzie E quindi Sostanzialmente La differenza Degli equaratri È che Gli equaratri Lavorano A profondità Minime